Maria Teresa di Lascia nacque a Rocchetta, Sant'Antonio, in provincia di Foggia, il 3 gennaio 1954. Politica e scrittrice, una volta conseguita la maturità classica, si iscrisse all'Università di Napoli alla Scuola di Medicina e Chirurgia, con lo scopo di diventare missionaria laica, ma la politica, che diventò la sua passione, ne dettò l'abbandono, pur rimanendo in fondo nel solco della missione, in quanto visse la politica come missione. Quindi nel 1975 aderì al Partito Radicale e nel 1982 fu eletta Vice-Segretario Nazionale del Partito durante la segreteria di Marco Pannella. È deputata durante la nona legislatura. Poi, purtroppo, un tumore le stroncò la vita. Il 10 settembre 1994, all'età di 40 anni, soli 40 anni, morì a Roma. La sua grande vena di scrittrice le permise, seppur dopo la sua dipartita nel 1995, con il romanzo Passaggio in ombra, edito dalla Feltrinelli, di vincere il premio strega. I diritti civili, la lotta contro la fame del sud, l'ambiente, furono i suoi cavalli di battaglia. Nella convinzione liberale della scelta politica, favorì la lotta a favore dell'aborto libero e della omeopatia. Dal 1985 al 1986 diresse con successo il giornale Notizie Radicali, per il quale ha scritto e pubblicato articoli di ecologia, di medicina, di giustizia e di attualità politica, naturalmente. Aderì al coordinamento radicale antiproibizionista e nel 1993 coordinò, insieme ad Adriano Sofri, la campagna Un Digiunatore al Giorno, che era di solidarietà con le vittime della guerra nella ex Jugoslavia. Nel 1990 fu tra coloro che proposero la difesa della legge Gozzini sulla riforma penitenziaria. Nel giugno del 1993 partecipò alla conferenza sui diritti umani a Vienna, in cui manifestò in favore della causa di liberazione del Tibet. Sempre nel 1993 fondò e diresse, insieme a Sergio Delia, che sposò l'associazione Nessuno Tocchi Caino, lega per l'abolizione della pena di morte nel mondo. La vita di Maria Teresa cominciò, come detto, a Rocchetta Sant'Antonio, la Rocca, oppure la Rocche in dialetto locale, un comune pugliese della provincia di Foggia, i cui abitanti sono detti Rocchettani e il patrono è Sant'Antonio Abbate. Rocchetta Sant'Antonio ha assunto diversi nomi. In origine era Oppidum Rocca, poi Roccette Sant'Antimi, Rocce Sant'Antimo, Sant'Antimo in Rocca, Rocchetta di Puglia e infine l'attuale Rocchetta Sant'Antonio. Nel 1700 il comune faceva parte della provincia del Principato Ultra. e nel quadriennio dal 1743 al 1746 fu inoltre soggetta alla competenza territoriale del Reggio Consolato di Commercio di Ariano. Appartene quindi alla provincia di Avellino fino al 1939. Il 24 agosto 1709 Giuseppe Mastro Stefano, un contadino intento a zappare Maggese, chiese l'acqua alla Madonna del Pozzo che gli era concesse e successivamente quest'acqua venne anche utilizzata per guarire diversi ammalati.